Se sei un imprenditore, hai un'azienda o sei un freelance, sono sicuro che almeno una volta ti sarei chiesto se è possibile vendere attraverso i video, se sì, come farlo, quali sono gli step da rispettare e cosa rende un banale video un video che vende. Dunque, se già stai vendendo i tuoi prodotti o servizi attraverso i canali tradizionali e vuoi scoprire come sfruttare i video per vendere online e su YouTube, questa guida è rivolta proprio a te, perché imparerai esattamente come editare un video tutorial che vende. Perché sì, si può fare, anche perché già tante aziende lo stanno facendo con ottimi risultati, quindi perché rimanerne fuori? Quindi, visto che adesso la tua attenzione, iniziamo subito. Molto bene, ora che hai capito cosa imparerai in questa guida, lascia che mi presenti. Io sono Angelo Capalbo Ghelli, fondatore di Editing Tutorial Pro, percorso che aiuta imprenditori e freelance a montare in autonomia video tutorial per vendere i propri prodotti e servizi su YouTube e nel web attraverso Final Cut Pro X. Sul mio conto devi sapere che dal 2017 ho iniziato a lavorare con aziende come Aruba, Montemagno, Lo Zio Monti, Marketing Genius, Ducati, B-Up, accumulando molta esperienza, molti risultati, ma anche molti fallimenti. Sì, hai già capito bene, io non sono il classico fuffaguro che cerca di apparire sempre bello perfetto, nato imparato e che non sbaglia mai, bensì una persona, un imprenditore che ama mettersi in gioco, che a volte sbaglia, ma con la costante missione di imparare la lezione dall'errore commesso, per poi fornire ai miei clienti la soluzione corretta già testata e provata da me. Dal 2019 poi mi sono specializzato nel vendere online su YouTube attraverso i video, lavorando a stretto contatto con aziende freelance come ad esempio Fisco Zen e Bernardo Mascellani. Infatti io sono uno di quei pochi videomaker in circolazione che ha studiato e assimilato competenze di marketing e copywriting applicandole poi ai video, diventando in grado di unire la qualità estetica, come questa che vedi, con la qualità del copy, ovvero il che cosa e come lo dici, rendendo un banale contenuto un video tutorial che vende. Quindi se ti ho incuriosito e vuoi saperne di più, rimani fino alla fine di questo video. Bene, entriamo nel vivo della lezione e chiariamo subito questo concetto. Per vendere è fondamentale creare impatto sociale, che sia attraverso i video tutorial che carichi su YouTube, che sia offline quando parli con una persona interessata in ciò che fai. L'impatto sociale che crei verso i tuoi potenziali clienti è la chiave di volta che ti consentirà come conseguenza positiva di vendere attraverso i video. Tuttavia non basta, cioè un tutorial che riesce a creare impatto sociale, non è detto che sia un tutorial che poi effettivamente vende. È proprio per questo che devi seguire questi 5 step che ho preparato oggi per te, per combinare l'impatto sociale con la vendita diretta. Comunque sull'argomento impatto sociale per vendere c'è da fare proprio un video a parte, infatti devi sapere che ci sto proprio lavorando in questo momento, ora che è uscito questo video, quindi ti suggerisco di iscriverti alla mia newsletter, che è totalmente gratuita, qui link in descrizione, per essere avvisato appena sarà rilasciato. Bene, partiamo dal primo step, ovvero la CTA. Se vuoi realizzare un video che vende, è di vitale importanza inserire alla fine di ogni tuo video una CTA, ovvero una chiamata all'azione chiara e precisa. Ti dico questo perché nei tuoi video puoi inserire tutto il valore che vuoi, ti ci puoi impegnare quanto ti pare, ma se alla fine non metti la call to action, il video non venderà mai per te, in realtà non venderà niente. Se non sai cos'è una CTA, te lo spiego subito. La CTA, call to action, tradotto in italiano chiamata all'azione, è un acronimo che indica l'invito agli utenti, quindi ai tuoi spettatori che stanno guardando il tuo video, a fare una specificazione dove aver visionato il tuo contenuto. Infatti le CTA più ricorrenti sono ad esempio iscriviti alla newsletter, guarda un webinar gratuito, oppure prenota una consulenza sempre gratis per valutare l'acquisto del prodotto o servizio che tua azienda o freelance stai offrendo. In realtà la CTA può essere usata anche per vendere direttamente, quindi se hai ad esempio un link Amazon, un link affiliato, un link di eBay, di un e-commerce, di una sales page, ovvero di una pagina di vendita, va benissimo, puoi e devi usarlo. L'importante è che tu dica sempre ai tuoi spettatori, alla fine di ogni tuo video, di fare una specifica azione. Ecco, per farlo con un piano organizzato ti consiglio sicuramente il mio programma Mal di Schiena passo dopo passo, che ha tutta una serie di protocolli che ti possono aiutare, vai però prima alle lezioni di prova gratuita con i link nella descrizione del video. Creando quindi l'opportunità di approfondire altrove ciò che hanno già visto e gradito in cambio di denaro. Infatti per me questo primo step è molto importante perché ti consentirà effettivamente di vendere attraverso i video. Chiarito questo, per gli amanti di esempi pratici, come me, eccone tre. L'esempio numero uno riguarda ciò che devi fare zero, che è anti vendita e che se lo hai fatto fino ad oggi la devi smettere immediatamente. Mi riferisco a terminare il video con frase scritte o parlate come ciao al prossimo video, oppure lascia un like al video, oppure condividi il video e fammi sapere cosa ne pensi. Come vedi in questo tutorial accade proprio questo, cioè terminata la spiegazione, appare solo la scritta continua ciao al prossimo video. Anche se fossi curioso e volessi comprare o contattare direttamente la pittrice, beh non potrei farlo, non ci avrei alcun modo perché in descrizione non c'è un whatsapp, non c'è una mail, non c'è ad esempio un calendly per prenotare una consulenza per valutare di realizzare un dipinto, come fare e così via. Niente, nada. Capisci bene che noi siamo qui per realizzare i video che vendono i nostri prodotti e servizi, quindi è tua responsabilità spiegare a parole molto semplici e poi con scritte e b-roll dove le persone possono andare a cliccare per acquistare ciò che offri. L'esempio numero due riguarda sempre lo stesso problema, in questo caso però la qualità del video è nettamente superiore anche perché realizzata da un videomaker. Tuttavia seguimi con ragionamento, perché questa è la classica situazione che nonostante l'alta qualità visiva, questo video sta vendendo zero. In questo caso Mark ha editato ben 15 minuti di tutorial dove spiega come crea i suoi videoprodotti per aziende, spiegando in più step il processo di realizzazione e fin qui veramente ottimo, tutto molto utile per scaldare ed educare potenziali clienti all'acquisto dei suoi servizi, però i problemi iniziano quando, arrivati alla fine, ecco cosa dice. Per portare un risultato al cliente finale. Quindi per questo video è tutto, spero che ti sia piaciuto ma ti sia stato soprattutto utile, quindi se fosse così magari metti un like, fai un commento, condividi, iscriviti al canale e noi ci vediamo in un prossimo video qui, Mark Condello, ciao! Come hai visto, il video tecnicamente è fatto molto bene, ma non basa solo la qualità visiva, perché non è ciò che distingue un video da un video che poi vende. Infatti ciò che fa la differenza è la presenza di una CTA di vendita, che inserisci sempre alla fine di ogni tutorial. Quindi adesso vediamo l'esempio numero 3, ovvero quello corretto da seguire. Riguarda sempre Mark, che dopo esserci confrontati e avergli spiegato appunto l'importanza della CTA, che deve essere sempre chiara, precisa ed accompagnata da B-roll rafforzativi, ecco cosa ha fatto. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto lascia un like, un commento ed iscriviti al canale, perché usciranno presto nuovi contenuti video. Bene, detto questo, se hai un'attività che vende prodotti online, comunque un'azienda, e sei interessato a servizi simili a questo, comunque per il tuo brand, per il tuo progetto, quello che devi fare è andare qui in descrizione sul mio sito, che attualmente è comunque in fase di modifica, ma nonostante questo, troverai sempre in fondo la pagina il link di Calendly per prenotare una consulenza gratuita con me, in modo da capire come funziona il tuo progetto, il tuo prodotto, cosa vorresti fare, cosa non vorresti fare, e tranquillo, non sarà per forza una vendita, anzi, sarà una chiacchierata per capire la fase embrionale e cosa vorresti fare. Come hai potuto vedere coi tuoi occhi, in questo caso Mark ha inserito una CTA semplice e molto chiara, invitando a prenotare una chiamata gratuita conoscitiva su Calendly, cliccando in descrizione sul suo sito. Avendo inserito anche i B-roll dove mostra proprio l'interfaccia di Calendly, è stato molto chiaro e preciso verso i suoi potenziali clienti. Per lavorare con Mark, il primo passo da fare è quello di lasciare i dati e prenotare una consulenza gratuita. Se vai a controllare tu stesso, per dire tutto questo, Mark ha impiegato soltanto 35 secondi. Capisci bene che senza questi 35 secondi di chiamata all'azione, se tu fossi un potenziale cliente, non sapresti bene cosa fare e quindi passeresti al prossimo video. Certo, il più curioso potrebbe cercare in descrizione, tuttavia sappiamo bene che spesso siamo distratti, o comunque per dimenticanza non apriamo la descrizione del video, né da desktop né da telefono. Comunque, ciò che devi fare è pronunciare queste paroline magiche e inserire questa cazzo di CTA di vendita alla fine di ogni tuo tutorial. Comunque, se volessi approfondire il tema della CTA, capire alcuni aspetti psicologici della vendita applicata ai video, scoprire se in questo momento hai eventuali sindromi come quella dell'impostore, o ad esempio per scoprire passo passo come editare una CTA in Final Cut Pro X, all'interno del mio corso ho dedicato alcune lezioni pratiche su questo argomento. Quindi, rimani fino alla fine del video per saperne di più. Adesso passiamo al secondo step, ovvero la struttura di un video che vende, template. Il secondo step che rende un video, un video che vende, è seguire passo passo una struttura ben precisa, quindi come editare nel modo corretto il video dall'inizio alla fine. Rifletti con me, cosa facciamo al giorno d'oggi quando abbiamo un dubbio o un problema da risolvere? Quasi sempre cerchiamo su YouTube il problema, ad esempio come fare quella cosa, ci imbattiamo in un video tutorial, lo clicchiamo, nei primi secondi cerchiamo di capire se effettivamente fa il caso nostro e se almeno i primi 10-30 secondi sono convincenti, ce lo guardiamo per scoprire la soluzione al problema. Quindi la persona che ha realizzato il video tutorial ci sta dando la soluzione o almeno una parte di essa. Infatti devi capire che quando realizzi un video tutorial non è che ti metti lì a parlare come se fosse un vlog o un video tra amici, iniziando quindi a registrare a caso così come ti viene. Assolutamente no, ci sono degli step ben precisi da rispettare in modo tale che tu riesca a rendere un video, un video che vende. Quindi in montaggio com'è che si traduce questo? Rispettando questa struttura di un video che vende. Quindi i primi 10-30 secondi sono dedicati al gancio, quindi al look del video. Qui è fondamentale esporre in modo diretto il problema allo spettatore e dire che in questo video scoprirai come fare x, y, z, quindi come risolvere quel problema specifico. Ecco un paio di esempi pratici. Crescere nel 2022 su Instagram è impossibile? No, è ancora possibile crescere su Instagram nel 2022? E oggi in questo video ti spiego esattamente come fare. Ciao a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. In questo video ti andrò a spiegare come un'azienda che vende prodotti fisici online può sfruttare i video per differenziarsi dalla concorrenza, vendere di più e abbattere molte barriere di diffidenza che impediscono ai clienti di comprare proprio i tuoi prodotti. Disclaimer, con questa affermazione non sto dicendo che i video sono la soluzione a tutti i mali, anzi tutt'altro. Per fare dei buoni video efficaci serve una programmazione e strategia ben definita, con un come e con un perché. Vanno usati con cognizione di causa, quindi basta parlare e partiamo con la sigla. Come appena visto, i primi 10-30 secondi sono fondamentali per catturare l'attenzione e per incuriosire lo spettatore e convincerlo a vedere il prossimo minuto. Per passare poi ai primi 4-5 minuti dove hai già iniziato ovviamente a spiegare la soluzione del problema, quindi ciò che interessa al tuo spettatore. E se fai tutto bene, farlo rimanere fino alla fine. Tutto questo per due motivi. In questo modo lo spettatore riesce a conoscere tutta la soluzione al problema che abbiamo confezionato per lui nel video, quindi riusciamo a creare quell'impatto sociale nei suoi confronti. E poi perché arriva il momento della CTA, in fondo al video, che è la parte più importante per la nostra azienda perché dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto possiamo iniziare a raccogliere i nostri frutti, dicendo allo spettatore cosa ad esempio può fare insieme a noi, quindi che servizio o prodotti possono fare al caso suo. Infatti dopo il gancio è il momento della soluzione parziale del problema. È qui che generi impatto sociale verso lo spettatore, dando valore, aiutandolo quindi con trucchi pratici, trucchi del mestiere o mostrando semplicemente come risolvere quel problema, oppure cosa non fare in quella circostanza. In questa fase è molto utile suddividere il tutorial in punti, quindi in tre step, cinque step, sette step, cinque consigli e così via. Ti invito anche ad aggiungere del testo come cosa fare, cosa non fare, trucco numero uno, trucco numero due, che aiuta lo spettatore a capire e seguire meglio il tutorial. Infatti tutto questo ti aiuta a rendere i concetti del tuo video più facili da seguire e quindi riesce ad aumentare il valore percepito della lezione. Tutto questo può sembrare che faccia poco la differenza, tuttavia tra un video dove c'è solo il parlato e un video con l'aggiunta di varie frasi e b-roll per rafforzare quello che stai dicendo, in questo modo riesce a dare quel qualcosa in più, perché stai aiutando lo spettatore ad assimilare i vari concetti con maggior chiarezza e facilità, quindi percepirà il tuo video ancora più utile per la soluzione del tuo problema. Se presti attenzione in questo momento, in questo video, siamo nella fase della soluzione del problema e siamo allo step numero due su cinque. Infine il terzo punto della struttura di un video che vende riguarda ovviamente la CTA di vendita per approfondire, quindi valutare l'acquisto di prodotti e servizi. Riguardo la CTA non sto a ripetermi perché ne abbiamo parlato ampiamente nello step numero uno. Per riassumere, questo è lo scheletro, quindi il template da usare per creare e montare ogni tuo video che vende. Gancio hook, quindi esponi subito il problema, soluzione valore del video, CTA vendita per approfondire. Però mi raccomando, presta attenzione, non devi mai pensare di cambiare l'ordine di questi tre blocchi, né pensare che ad esempio uno di essi sia meno importante degli altri. È vero che ho iniziato questa guida parlando della CTA e dicendo che è lei che ti consente di vendere, tuttavia senza il gancio e senza il valore, la CTA da sola non avrebbe senso, oltre al fatto che è tuo compito tenere alta l'attenzione delle persone fino alla fine del video. Infine ti ricordo che se vuoi che la CTA funzioni, è necessario l'impatto sociale, quindi aiutare veramente le persone nella parte centrale del video, quindi nella fase della soluzione del problema. Questo perché per una delle leggi della persuasione, ad esempio di Robert Cialdini, le persone se si sentono in debito, è molto più facile che siano propense a darti qualcosa in cambio. Quindi, se adesso ti stai chiedendo, ma come faccio Angelo a tenere le persone incollate allo schermo, senza risultare prolisso, bensì andando dritto al punto, aiutando quindi i miei spettatori, beh, è giunto il momento di scoprire lo step numero 3. Mi riferisco all'obiettivo fondamentale, farti percepire come esperto del prodotto che vendi. Per capire questo step è necessario fare una premessa. Prima di premere REC davanti alla videocamera, verifica di essere sicuro di quello che dici, ovvero è importante conoscere l'argomento che andrai a trattare. Non puoi improvvisare o inventare, perché altrimenti le persone lo capiranno e non compreranno mai un cazzo da te. Devi saper fare ad occhi chiusi quello che dici, perché è importante far vedere in video al potenziale cliente confidenza ed esperienza da parte tua e quindi posizionarti ai loro occhi come azienda o professionista esperto per trasmettere fiducia e quindi poi vendere. Mettiti nell'ottica che tu sei un esperto e che è tua responsabilità a risultare tale anche in video. Infatti i tuoi potenziali clienti quando guarderanno i tuoi video e inizieranno a pensare wow, questo sì che è preparato ed esperto in quello che dice e fa vedere, beh, inizierà la magia, inizierai a collezionare contatti e poi vendere grazie ai video. Quindi stai capendo che per risultare competente è importante esserlo, in video non funziona più il fake it until you make it, mi dispiace. Quindi oltre che rispettare la struttura del video che vende, è importante concentrarsi su come ciò che diciamo appare in video. Quindi per ottenere questo risultato è necessario usare il montaggio video per mostrare la miglior versione di te stesso e siamo nello step numero 4. Quindi se dal vivo risulti sicuro, sei confidence nel spiegare i tuoi prodotti e servizi, ma in video perché non li hai mai fatti, ti senti ancora un po' inceppato? Il montaggio video, come lo spiego io nel mio corso, è la competenza che serve a te. Infatti imparando a tagliare le parti in eccesso e tutti gli errori che hai accumulato nel video che pubblicherai, riesci a mostrare soltanto il netto della registrazione, quindi il succo di quello che vuoi dire. Adesso hai sbloccato l'abilità di mostrare in video la miglior versione di te stesso. E questo risultato l'hai ottenuto non perché hai provato 10.000 volte a fare lo stesso video, sprecando troppo tempo ed energie, ma grazie a solo quei 2-3 tentativi e l'utilizzo del montaggio in Final Cut, riuscendo a dare una marcia in più alla tua esposizione, ovvero come appari in video. Come saprai, nella vita non abbiamo mai una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. Bisogna impegnarci sempre, anche in video, a tirar fuori la miglior versione di noi stessi e pubblicare quella online. E più sei le prime armi con la videocamera, più il montaggio video ti sarà utile per scremare, quindi mascherare, quei difetti da principiante. Quindi montando con Final Cut e impiegando anche 3 ore in più di lavoro, sono 3 ore furbe investite nel tuo video e quindi nel tuo processo di vendita. Ti assicuro che il montaggio non deve essere estremo come alla Lewis o alla Casey Neistat, pensi come faccio io, presente e quanto basta per mostrare la miglior versione di noi stessi. Quindi grazie al montaggio video, grazie a questa skill che ti consente di mostrare a chi ti guarda solo il netto di ciò che hai da dire, riesci ad andare dritto al punto e quindi tenere lo spettatore incollato allo schermo. Infine vediamo lo step numero 5, ovvero non ti aspettare di vendere online con un solo video tutorial che vende. Che sia chiaro vecchio mio, non aspettarti di vendere con un solo video, seppur fatto bene, ovvero che vende. Infatti ciò su cui ti devi concentrare è l'effetto composto, ovvero il compound effect, che puoi avere, quindi puoi generare, grazie a una serie di video tutorial che vendono creati nei mesi e negli anni. Anche per questo è importante capire da subito come montare video tutorial che vendono, così da partire con il piede giusto ed evitare di perdere soldi e soprattutto tempo. E poi devi sapere che non tutti i tuoi potenziali clienti che trovano e guardano i tuoi video acquisteranno nell'immediato, è una cosa normale nel marketing, soprattutto se il tuo prodotto si trova in una fascia di medium o high ticket. Infatti ormai avrai capito che è da furbi inserire da subito i video che vendono all'interno del tuo ecosistema di marketing, così da velocizzare il processo di incubazione del potenziale cliente, scaldarlo più velocemente, in modo automatico perché sono i video che lavorano per te, e quindi anticipare il primo acquisto. Infatti se vuoi imparare a editare i video tutorial che vendono i tuoi prodotti e servizi, come stanno facendo ad esempio Bernardo e Mark, allora ti invito a far parte del percorso Editing Tutorial Pro. Infatti se sei un'azienda o sei un freelance che offre servizi e prodotti e vuoi vendere attraverso i video, questo è proprio il corso che fa per te. All'interno di questo videocorso ti spiegherò come montare video con Fanacad Pro X per poi essere in grado di editare in autonomia video tutorial che vendono. Oltre al corso, nell'offerta è incluso il nostro gruppo Facebook dove puoi quindi farmi tutte le domande che vuoi, quindi interfacciarti con me, sia di montaggio video sia di marketing applicato ai video tutorial. Devi sapere che nel gruppo Facebook organizziamo anche mensilmente delle live per trattare questi argomenti e fare lezioni pratiche, quindi se dovessi trovare difficoltà su alcuni video potrai inviarmi le, ti aiuterò in live ad andare al next level e quindi sbloccarti. Quindi quello che devi fare è semplicemente cliccare in descrizione, accedere al sito che è una sales page fanacadprox.editingtutorialpro.com per scoprire l'offerta e tutto quello che è incluso nel percorso. Ovviamente se hai dubbi o domande, sentiti libero di scrivermi via mail a angelo-editingtutorialpro.com oppure su WhatsApp al 347-5756-917. Sarò felice di ascoltarti e valutare insieme in modo trasparente se questo percorso può fare al caso tuo. Noi ci vediamo dall'altra parte, ciao!